Risponderanno di porto e detenzione di armi da sparo clandestine, munizioni, ricettazione e droga le quattro persone arrestate ieri mattina appartenenti al clan mafioso Strisciuglio. Gli arresti sono stati fatti nell'ambito di indagini sul ritrovamento da parte della polizia il 30 aprile scorso di pistole e droga all'interno del vano casco di uno scooter per gli investigatori trasformato in un nascondiglio utilizzato dal clan Strisciuglio, parcheggiato all'interno di un garage di via Meyer al quartiere Libertà. Un gruppo, quello degli Strisciuglio, tenuto d'occhio dopo la scarcerazione di Vito Valentino, il reggente del quartiere Libertà arrestato l'8 luglio scorso. In occasione del blitz nel garage il gestore venne indagato per favoreggiamento in quanto non fornì dichiarazioni utili per risalire al gruppo che gli aveva imposto la presenza di armi e di droga nel garage. Al garagista venne inoltre sequestrato anche l'hard disk del sistema di videosorveglianza le cui immagini hanno consentito di identificare chi usufruiva del materiale nascosto nello scooter. Persone che con regolarità quotidiana prelevavano sia la droga destinata allo spaccio sia le armi. Il blitz nel garage non fece desistere chi colpì con una raffica di proiettili qualche ora più tardi Luigi e Antonio Luisi, padre e figlio, assieme in un circolo ricreativo di via Calefati al quartiere Libertà. Colpi poi rivelatisi mortali per Antonio, il più giovane dei due.